te che bello sclerare stavolta buon figli anni giocatori di prima c'è garanzo 2 volte prendi questo dannato preso non perchè fanno quel rumore lì perchè lo fanno sempre mentre non benvenuti per questa nuova partita di alciate due euro online eliminazione ok proverò a fare questa partita anche se so che morirò forse farò qualche uccisione ma vediamo che cosa posso fare se muoio durante la partita ciò che accadrà molto probabilmente però provvedere che cosa fanno gli altri qui sento due di morte mia però ho paura grazie vabbè ovviamente proverò a non morire ho detto proverò non so se ci riuscirò ecco ci ho provato il barco ecco ma scelto verde peccato è morto attra 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 attra